Radio Radicale ci occupiamo dell'Inps, lo facciamo con il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Molligone di Fratelli Italia perché in Commissione è stata votata una risoluzione che riguarda una circolare dell'Inps che concerne i contributi versati dagli artisti ai quali l'Inps chiede di dare dei soldi. Allora ci spiega che cosa è successo, che incongruenza c'è stata e che cosa avete votato? Sì, praticamente nel corso degli anni scorsi l'Inps all'improvviso ha cominciato a richiedere indietro i fondi della pensione ad artisti che erano già andati in pensione, il cosiddetto allegato B, dando un'interpretazione addetta degli stessi artisti. Cioè dei diritti acquisiti, l'Inps ha detto che a noi ci eravamo sbagliati e abbiamo interpretato male la norma, ci dovete ridare dei soldi. Esatto, ma in alcuni casi, soprattutto per gli artisti quelli più famosi o comunque che hanno lavorato tanto non è tanta nozione di fama ma quanto di ore, insomma di debutti, di ore lavorate e sostanzialmente chiedeva indietro anche migliaia di euro, chiede indietro anche migliaia di euro. Nel frattempo si è costituito un comitato che ha incaricato l'avvocato Mulineddu nel corso degli anni scorsi di fare ricorso e ricorso che è stato vinto in 22 tribunali italiani che hanno dato ragione agli artisti e non all'Inps. Nonostante questo il passato governo Franceschini non è intervenuto sull'Inps, ricordo che c'era tricarico e di fatto si è arrivati a una situazione paradossale in cui la Corte di Castazione ha ribaltato 22 giudizi dei tribunali italiani. Noi siamo intervenuti... Contrari agli artisti, dando ragione all'Inps. Probabilmente per una questione di finanza pubblica, però nel merito non scalfendo il giudizio dei tribunali. Il Parlamento ha intervenuto in maniera tempestiva appena nominati le commissioni facendo una congiunta con il collega Rizzetto e facendo una risoluzione molto chiara. Quindi cultura e lavoro. Sì esatto, sono due competenze e dicendo al governo, guardate al ministro Calderone e al sottosegretario Durigon, guardate questa situazione o fate fare un'interpretazione autentica dall'Inps o intervenite con decreto. Questa risoluzione si è svolta nei mesi scorsi con le audizioni di tutte le associazioni di categoria dell'Inps ovviamente e del stesso avvocato Murineddu che è un po' lo specialista del caso e alla fine è stata votata. Mi dispiace che l'opposizione si sia stenuta sempre perché... Cioè l'opposizione non era d'accordo per questa cosa? Non era d'accordo a parole, poi però come si fa spesso l'opposizione ha rilanciato dicendo che l'avremmo voluta più perentoria. Dopo gli interventi dei colleghi dell'opposizione, io sono intervenuto insieme al collega Rizzetto su Durigon che ha accettato una declaratoria degli impegni più perentoria. Nonostante questo hanno mantenuto il voto d'astenzione. Quindi nonostante il cambiamento, il fatto che voi eravate venuti incontro alle opposizioni e loro... Vabbè, ma questa è normale dialettica, ma la maggioranza opposizione ci sta. L'importante è che si siano stenuti e comunque è stata votata di fatto all'unanimità. E ora questa risoluzione dice al governo urgentemente intervieni sull'Inps perché venga data l'interpretazione autentica o altrimenti intervieni legislativamente con un decreto. E questo è fondamentale per dare giustizia a tutti gli artisti che rischiano di pagare, stanno pagando, rischiano di pagare migliaia di euro, non dovuti, addirittura restituendoli. Immaginate la scena di chi magari ha percepito per anni la pensione e è costretto a restituire migliaia di euro e non li ha, mandando appunto nella disperazione più totale chiunque. Manderebbe la disperazione più totale chiunque. Il Parlamento dimostra di essere attento e di intervenire sui fatti in maniera immanente, in maniera molto tempestiva, non aspettando ovviamente soltanto le sentenze, ma come si sa e come ci ricorda la Costituzione, essendo potere legislativo, quando qualora ci sono casi che riguardano l'interesse generale, l'interesse pubblico come questo, il Parlamento ha il dovere di intervenire con il governo e dire al governo sana questa vicenda. Il Ministro non può fare un DPCM? Se l'Inps non riesce a risolvere, con l'indicazione del Parlamento, si può fare un decreto. Devo dire che il Ministro si è anche impegnato a risolvere, quindi insomma abbiamo fiducia nell'impegno preso. Che cifre sono state richieste? Allora io non le chiedo di dirmi quali sono gli attori e gli artisti che sono stati colpiti da questa cosa, però immagino che le cifre siano abbastanza alte. Ovviamente più un attore lavora e più percepisce poi crescenza di pensione. Questa è una parte corrispondente circa al 20-30%, quindi stiamo parlando in alcuni casi di attori non solo più famosi ma anche magari attori che per capacità... Quindi ci sarebbe stata una decurtazione della pensione del 20-30% ed è stata richiesta la somma di questa parte ricevuta? Per alcuni attori, ripeto, non dipende tanto dalla fama quanto da quanto hanno lavorato, ma anche di migliaia di euro, tutti insieme, richiesti peraltro tutti insieme. Quindi è una follia, una follia perché c'è anche il tema dell'autotutela, cioè se lo Stato sbaglia a fare... Anche mettiamo che... Non è questa l'interpretazione che viene data dai tribunali, ma anche mettiamo che avesse sbagliato l'Inps, non è che puoi andare a richiedere i soldi indietro perché ti sei sbagliato calcolo, cioè non è assolutamente corretta. Ci vorrebbe, sarebbe necessario secondo lei uno scudo che garantisca in qualche modo o coloro che percepiscono un trattamento pensionistico da questi errori che, insomma, capitano spesso. Sicuramente l'Inps e i dirigenti che hanno sbagliato devono risponderne perché stiamo parlando della vita delle persone. Quando ha un pensionato, poi soprattutto, detto per noi, come si sa, le pensioni degli artisti molto spesso sono comunque basse perché, tanto è vero che abbiamo fatto l'indennità di discontinuità, abbiamo fatto tutta una serie di interventi perché comunque l'attore, se non sei il grande attore che lavora tutta la vita, tutti i giorni, è un lavoro precario e discontinuo e quindi poi si riflette anche sul trattamento pensionistico. Quindi talvolta stiamo parlando di pensioni molto basse o comunque che non hanno certo, però che garantiscono la sussistenza. Quindi assolutamente bisogna trovare il modo perché non ci siano questi errori e qualora si verificassero, appunto, intervenga come sta facendo, come abbiamo chiesto, il governo, lo Stato. Grazie al Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, che ci ha parlato di questa risoluzione votata in Commissioni Congiunte Lavoro e Cultura sull'errore dell'Inps nei confronti degli artisti. Grazie. Grazie a voi.